Dal prossimo 2 novembre anche la città di Favara dovrebbe adeguarsi alle direttive imposte della Chiesa Cattolica nello svolgimento dei funerali. Da quella data tutti i funerali con rito cattolico dovranno svolgersi all'interno delle chiese di appartenenza del defunto e non più nella cappella cimiteriale. A dirlo in una nota è stato il presidente della conferenza episcopale italiana cardinal Angelo Bagnasco che ha disposto l'obbligatorietà su tutto il territorio nazionale della seconda versione dell'edizione tipica del rito delle sequie. Nel testo c'era appunto anche il divieto dal prossimo 2 novembre 2012 di celebrare i funerali con la presenza del cadavere all'interno delle cappelle cimiteriali. Questa disposizione interessa direttamente soprattutto la comunità favarese che a differenza di quanto avviene nella stragrande maggioranza dei comuni italiani dove i funerali si svolgono già nelle parrocchie di appartenenza dei defunti, dal 1973 l'estremo saluto ai cari defunti viene dato nella cappella maggiore del cimitero. A decidere ciò fu l'amministrazione comunale in carica nel 1973 a seguito di una nota firmata dal dottor Pietro Larussa dell'assessorato all'Annona che il 20 ottobre con lettera protocollo 14451 faceva notare alla cittadinanza che lo svolgimento dei funerali nelle chiese poteva rappresentare un problema di carattere igienico sanitario che gravava non solo sulle parrocchie ed i parroci ma sulla cittadinanza tutta. Il sindaco di allora con l'ordinanza 116 del 1973 fece adottare i provvedimenti consigliati con quella lettera. Oggi in vista del divieto imposto dalla CEI il parroco della chiesa San Vito di Favara, Don Diego Acquisto, in una lettera aperta evidenzia come a breve il consiglio comunale di Favara potrebbe essere chiamato a revocare proprio quell'ordinanza sindacale almeno per i riti di religione cattolica. Sulla questione interviene anche l'arciprete di Favara che in una lettera scrive la consuetudine normale per tutta l'Italia ma disattesa nella nostra città ha sinora previsto e prevede che lo svolgimento del funerale avvenga con la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale dove il fedele defunto risiedeva. Nella parrocchia si è generati alla fede, nella parrocchia ogni domenica si è nutriti del sacramento pasquale, nella parrocchia si prega per il defunto e la famiglia con la comunità celebra in Gesù morto e risorto. Nella eccezionalità dei modi di celebrare i funerali in città, Don Mimmo aggiunge della disobbedienza alla legge della chiesa di celebrare i funerali nella parrocchia portata avanti da quasi 40 anni, siamo stati artefici soprattutto noi presbiteri, ne chiediamo perdono a Dio e a tutti i fedeli. Le eccezioni alle regole diventano spesso consuetudini che con il passare del tempo potrebbero diventare ipotetiche tradizioni. Forse per stare al passo con i tempi occorrerebbe attingere alle esperienze del passato.